E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, seguitemi sui social, guardate i video già fatti sul calciomercato, le pagelle, i voti, il grande punto generale e generalista sulla Fiorentina con Mario Tenerani. A proposito, domani farò il video sui sad player della Fiorentina, video immancabile e signori, giovedì è il D-Day, quindi state sereni, giovedì parrucchiere e non si scampa, giovedì signori, parrucchiere, non si scampa e non si gambera, ok? Mi sembro manenti con i bonifici, ma state sereni che giovedì, giovedì arriva, ho già prenotato, quindi non si scampa, signori. Detto questo, quest'oggi facciamo uno di quei video che nella sosta nazionale che ci è capitata tra capo e collo, c'è utile per ragionare sul già visto, per capirlo meglio. Cioè quest'oggi vi spiego in cosa consta il pangasio 21-22. Allora, intanto andiamo con una definizione di pangasio che è la definizione ufficiale, così come questo è il luogo ufficiale in cui vi dico le squadre pangasiali, non che poi uno esce a campionato in corso dicendo Tizio è pangasiale, Caio è pangasiale, no, è pangasiale quello che dico io, quindi queste squadre in questo momento che vi vado a dire. Poi se ci saranno aggiornamenti, ovviamente non mancherò di farlo, ma tutto passa da questo luogo. Allora, che cos'è il pangasio? Il pangasio è, da definizione ufficiale, il variabile borsello delle simpatie e delle inerze calcistiche. Quindi sono delle squadre che, oltre alla Fiorentina che ovviamente è tifo e che quindi è sovra pangasiale, non ha senso di essere inserita nel pangasio essendo la squadra che è tifo, sono delle squadre che per dei motivi di interesse tecnico, futurismo, osazione, seguazione di sentenze cattiane, calciomercatismo cattiano, sono squadre che per motivi variabili e via via esposti incontrano dei miei motivi di interesse, di simpatia e quindi seguito, ok? Anche sul canale. Ovviamente noi non è che seguiremo solo queste squadre, continueremo a seguire anche squadre che non sono pangasiali ma che hanno motivo di interesse. Uscendo un attimo dal pangasio, posso dirvi che non potendo seguire tutta la Serie A, quest'anno oltre alla Fiorentina avremo un forte focus ovviamente sulle tre strisciate, chiamiamo sulle tre grandi, sulle Romane e sulla Reale Triveneto. Questa è un po' la ripartizione del canile e le squadre che seguiremo più di tutte, cioè Fiorentina, le tre grandi, le Trivenete e le Romane. Questo è il mio focus di quest'anno. Il pangasio, diciamo, va un po' a ricalcare questo tipo di inerzio e questo tipo di seguito, però non le coglie tutte. Allora, in barba all'hype, in barba al portarvi ad aspettative esagerate e via dicendo, vi dico che quest'anno non è che sia un pangasio di particolare fomento, di particolare gasazione. È un pangasio abbastanza al vapore, no? Come se noi avessimo preso il nostro bel filetto di pangasio, abbiamo preso i nostri cestelli per la cottura al vapore, lo abbiamo piazzato sopra così come lo vedete, capito, anche senza limone, una bella nocchetta di burro e di sterco, una bella nocchettina di burro e di sterco sul filetto e l'abbiamo cotto così. Ce lo mangiamo così quest'anno, non è un anno di pangasi alla mugnai, alla livornese elaborati, no? Quest'anno ci facciamo un bel pangasio al vapore, perché non è che ci siano chissà quali fomenti. Allora, vi dico, iniziamo da un punto. Per quel che riguarda le tre strisciate, quest'anno neanche una è nel pangasio. Perché due anni fa era... Allora, al primo anno che io feci su YouTube non esisteva ancora il termine pangasio, però c'era l'Inter di Spalletti, che comunque Spalletti mi stava... Era criticato da tutti, tutti che gli davano merda, tutti sapevano che doveva arrivare Conte. Invece l'Inter fu pangasiale quell'anno, anche se non lo sapevamo, ma fu pangasiale. L'anno dopo fu l'anno della Juve di Sarri. E quello fu il futurismo. Tra l'altro, ve la ricordate l'immagine... Lo chiedo agli juventini, se la ricordano l'immagine, quando tutti parlavano di Guardiola, la Juve... Quella domenica pomeriggio, in cui uscì l'immagine della Juve che annuncia a Sarri, con lui messo così di profilo, con scritto Sarri in verticale. Quanto non avete goduto quel giorno? Dite quanto non avete... Detto questo. Quell'anno fu la Juve di Sarri, l'anno scorso fu il Milan di... Il Milan della rivincita del Fondo Elliott, no? Del tanto petato Fondo Elliott che qui difendavamo. L'anno della consacrazione di Mao, l'ho petato da tutti. Invece qui sempre rilanciato e voluto come set di S. Quindi abbiamo avuto l'Inter il primo anno, Juve con Sarri nel secondo, il Milan l'anno scorso con Mao, con Tonali e via dicendo. Infatti la maglia sarà presto sostituita per fare posto a quella di Torreira. Però diciamo, l'anno scorso fu il Milan. Quest'anno non può essere nessuna. La squadra che si era avvicinata era l'Inter, ma per la definitiva consacrazione serviva un acquisto tra quelli citati dopo la vendita di Lukaku. Però non è arrivato nessuno. Quindi non posso inserirla nel Pangasio l'Inter. Non ci sono motivi sufficienti per inserirla nel Pangasio. Vediamo cosa succederà. Magari se succederà qualcosa di particolare. Comunque è una squadra che al di là del Pangasio, come le altre poi, ma l'Inter in particolare, seguirò con interesse. Perché comunque è una squadra che certe inerzie le ha seguite. Via Lukaku, comunque è andato via Conte. È una squadra che tutti davano come crisi, farà schifo e via dicendo. Invece fin dall'inizio a me è interessato come costrutto. Sarò molto interessato a vedere l'Inter in Champions, per vedere se supererà il girone anche in campionato. Quindi non è Pangasio, ma è una squadra comunque che seguo con interesse e per certi versi anche simpatia quest'anno. Diciamo che se mi devono dire vince lo Scudetto una tra Juve e Milan e Inter, dimmi chi vuoi assolutamente tra queste, non mi dispiacerebbe vedere l'Inter. Però il Pangasio non è. Il Pangasio non è. Poi veniamo invece al Pangasio vero e proprio. Quest'anno ci sono le due Romane e iniziamo da queste. Due Romane perché? Per l'eccezionalità dell'avere due personaggi come Sarri e Murigno, che oltretutto sono i miei allenatori preferiti di sempre, sulle panchine della stessa città. Quindi Roma quest'anno vive un'eccezionalità che va premiata dal punto di vista Pangasiale. Sono i miei due allenatori preferiti che daranno vita al derby di quella che, almeno sulle panchine, quest'anno è la capitale d'Italia, Roma, sulle panchine. Quindi le Romane, in che ordine? La Roma, vi devo dire, non grandemente pangasiale. È un Pangasio appena accennato. Ci sei arrivato per il rotto della cuffia il Pangasio. Perché? Perché il Pangasio, per crescere rigoglioso, ha bisogno di elementi di rottura, di bastian contrarietà. Tipo, per esempio, Sarri e la Juve. Era tutti, no, ma cos'è, ma che schifo, e via dicendo. Molto, invece noi che eravamo sarriani, fomentati da questo futurismo, lì cresceva rigoglioso il Pangasio, capito? A Roma tu vai a chiedere di Murigno alla Roma, sono tutti gasati, tutti contenti, non ce n'è uno che non sia contento di Murigno alla Roma, no? E quindi non è che cresce particolarmente rigoglioso il Pangasio, in questo clima di esaltazione, in questo clima di smargiasso, la Roma ha vinto le prime, sembra che debba vincere. Cioè, non è che cresca molto rigoglioso il Pangasio, è un Pangasio appena accennato, più per la simpatia e il trasporto che io provo per il personaggio Murigno, no? A cui auguro di fare bene. Però non è che sia sto Pangasio devastante ed eccitante, quello romanista, è un Pangasio appena accennato. Hashtag, se siete romanisti, Hashtag Pangasio appena accennato. Il Pangasio della Lazio, invece, è più forte, perché Sarri, signori, perché Sarri è un portatore devastante di Pangasio. Cioè, se Sarri va ad allenare il Pescina Valle del Giovenco, il Pescina Valle del Giovenco è nel Pangasio. E quindi il ritorno del comandante porta grandi bancali di Pangasio, capito? Quindi la Lazio è motivo Pangasiale. E siccome io sono trasparente, sono anche uno che dice le cose come stanno, senza tanti misteri, vi dico che quest'anno sponda Roma nel derby romano. Non posso non simpatizzare per la Lazio di Sarri. Diciamo che al derby, mi auguro che lo vinca Sarri con la Lazio. Sebbene, vi ripeto, alla Roma c'è Murigno, che è motivo di interesse e di simpatia, però Sarri per me è un padre calcistico. Quindi la Lazio è Pangasio pieno, nonché grande motivo di interesse anche tecnico, perché credo che un po' tutti siamo curiosi di vedere come sarà questa Lazio, il centrocampo della Lazio in mano a Sarri, l'attacco della Lazio in mano a Sarri, anche la fase difensiva in mano a Sarri, che può dare magari qualche spina nel fianco, immobile nel quattro... Quindi ci sono anche motivi di interesse tecnico, in questo flottante anche di squadre che eccettuate Inter e Juve, è difficile capire chi arriva terza, chi arriva sesta, chi arriva settima, la Lazio c'è in pieno, quindi Pangasio-Lazio. Poi veniamo alle altre squadre pangasiali, anche qui in Barba Live vi dico che sono le tre Trivenete. Ve l'avevo già accennato in qualche live, lo ribadisco, le altre pangasiali sono le tre Trivenete. Non tanto per motivi tecnici, o meglio ce n'è una che è anche per motivi tecnici, ma le altre... Allora, veniamo alle due Venete. Le due Venete sono nel Pangasio più per motivi geografici che per motivi tecnici. Quali sono i motivi geografici che mi hanno spinto ad inserire Verona, Venezia e Udinese nel Pangasio? Ma il fatto che dopo vent'anni, Mario, ci sono tre squadre Trivenete in Serie A è un numero considerevole, perché di queste zone, capito, fare calcio nel Triveneto, nonostante motivi economici che pure spingerebbero ad aspettarsi molto, è da farsi il segno dei acrose ogni volta. Cioè, è un parto anale vedere svilupparsi il movimento calcio nel Triveneto. Quindi per un anno che ci sono tre squadre nel Triveneto, assolutamente è giusto dare un grande sguardo, come faremo poi nel canile, alle tre Trivenete. Infatti condividete con tutti i tifosi che conoscete di Verona, Venezia e Udinese, perché quest'anno veramente voglio che il canale abbia un importante focus su queste tre squadre. Diciamo che per motivi tecnici Verona e Venezia non è che mi diano questi particolari motivi di interesse. Verona ha un po' perso quella fase di grande fomento che fu il primo anno in Serie A, perché se vi ricorderete il primo anno di A c'era molto di pangasiale. C'era un Verona che da tutti veniva dato come retrocedente, ma cosa prendi Juric che è stato esonerato dal Genoa, mercato da schifo, le solite scommesse, invece noi eravamo qui a dire guardate che stanno facendo le cose bene e hanno fatto un super campionato. Poi Juric era anche un nostro e quindi siamo andati assolutamente lisci. Poi con l'andare del tempo è un po' calato il fattore sorpresa, la squadra si è un po' normalizzata e quest'anno diciamo che non è che abbia grandissimi motivi di fomento tecnico se vogliamo essere onesti e Difra Difra di per sé sarebbe l'anti-pangasio di per sé. Zaccagni ceduto all'ultimo, c'è Simeone, però ci sono diversi sad player che possono essere interessanti, c'è Sutro, quindi motivi tecnici non tantissimi. A livello tecnico siamo un po' in reflusso per quel che riguarda il fomento, però, 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 non si parla che l'Ellas Verona è un'istituzione. Per qualunque Veneto calciofilo l'Ellas Verona è e deve essere un'istituzione, è comunque una squadrella interessante e quindi pangasio assolutamente per il Verona. Venezia, motivi simili ma ancora più accentuati, cioè, è la squadra della mia provincia, vent'anni dopo è in Serie A, come posso non inserirla nel pangasio, anzi, sarà probabilmente la squadra dopo la Fiorentina che andremo comunque ad attenzionare maggiormente, no, a livello di parte commentate. Però, devo dire che a livello tecnico non mi fomenta mica, cioè, come ho avuto modo di dirvi in tante volte qui, se avessi costruito io la squadra avrei fatto una cosa totalmente diversa, c'è sta infornata di talenti sconosciuti. Ampadu è pangasiale, sicuramente, è un giocatore sui generi, però, diciamo che il pangasio del Venezia è soprattutto con gli occhi al passato più che al presente e al futuro di una squadra che è inseriato dopo vent'anni, una società comunque interessante che ha fatto le cose bene, va detto in questi anni di insediamento, spero che il pangasio possa portare a sbagliarmi dal punto di vista tecnico, nel senso che a fine anno stiamo qui a commentare una superannata del Venezia che comunque, vi ripeto, è una squadra pangasiale e non può essere altrimenti, voglio dire, il mio local team squadra della mia provincia ogni volta che vedo la sezione commenti mi sento a casa a livello dialettale e quindi il Venezia lo seguiamo, lo supportiamo, lo pangasiamo assolutamente più che per motivi tecnici proprio per motivi di simpatia locale poi, last but not least a tutti gli effetti l'Udinese che è l'unica squadra tra le tre trivenete che mi fomenta anche a livello tecnico allora, è nel pangasio intanto anche per dare un valore a questa squadra che non si caga quasi nessuno ma vi faccio notare che l'Udinese è in Serie A da tantissimo tempo cioè dopo l'Inter dopo la Roma dopo la Lazio penso sia dopo il Milan è la squadra che è in Serie A da più tempo è in Serie A più della Juve tanto per citare un esempio è un po' un riferimento del fare calcio a nord-est quindi il pangasio dell'Udinese è per tre motivi in primis perché vado vi ripeto a seguire grandemente le tre nord-estine quest'anno secondo luogo per valorizzare la storia di questa squadra che non si caga nessuno ma che in realtà è una storia per quella che è la dimensione anche di Udine non stiamo parlando di Milano Napoli o Torino e via dicendo è assolutamente performante e in terzo luogo è una squadra che a differenza di Verona e soprattutto Venezia mi fomenta anche a livello tecnico perché per me è una buonissima squadra e quest'anno ha l'opportunità di dimostrare che c'è vita oltre a De Paul che è il miglior giocatore del mondo ma soprattutto che l'Udinese ha una base tecnica comunque di valore anche senza De Paul tutti i discorsi che abbiamo fatto sui Pusseto De Lofeu Molina Nuitink Striger Larsen Pereira Slane e via dicendo quest'anno l'Udinese anche dal punto di vista tecnico è veramente interessante perché sarà l'anno del dentro o fuori di Gotti cioè di dimostrare veramente di essere o non essere un allenatore di ottimo valore è l'anno in cui può dimostrare di avere un'ottima base anche senza De Paul ed è un anno in cui magari con un flottante anche lì di squadre a metà classifica che possono dire la loro può anche fare bene quindi vi ripeto il Pangasio Roma soprattutto per Mourinho Lazio per Sarri più forte e le tre Trivenete questo è il Pangasio 21-22 signori non ce ne sono altri per adesso poi essendo variabile può sempre succedere qualcosa che ti va a togliere o mettere ok diciamo che il Pangasio è questo che segue anche un po' quella che sarà la programmazione e le squadre seguite sul Canile che saranno vi ripeto le tre grandi cioè oltre alla Fiorentina che è il focus principale ma seguiremo le tre grandi cioè Juve Inter e Milan le due romane Roma e Lazio e le tre Trivenete Udinese Verona e Venezia queste sono le 3, 6, 7 quanti sono 2, 3 3 Trivenete tre grandi quindi 6 le due romane andiamo a 8 più la Fiorentina queste sono le nove squadre che più di tutti seguiremo sul Canile a livello programmatico un caro saluto grazie a tutti